Musica Ah, c'eri ragazzi, qui è il pallone, qui è il tram, e oggi siamo su un gioco super cazzonissimo ignorantissimo extreme football throw down insieme al medico è un'altra è un'altra è un'altra cercando di spiegarvi che questa modalità di g mode nel quale bisogna spiegare non c'è tempo per spiegare fare touchdown in modo ignorante o no devo lanciare non ho fatto in tempo ok abbiamo già fatto un episodio sul canale di espli quindi vi consiglio di andarlo a visionare nel caso in cui ve lo siate persi qui siamo ne saremo in due contro due ma manca un giocatore non so ancora in banca si sta concedendo un po di riposo fermano è partito è arrivato anche lui le nostre nostre di vichio le spalle di inghia la spalla da due dei suoi due spi sono stato orato spi tirai spi tirai spi tirai spi sotto la trova stupendo spg giracolo gg nella come si va in chat vabbè non so come si va in chat come si va in chat come si va in chat in chat come papà t o y non mi ricorda bene ok da my speed lol tiro della vita anche questo o mio dio o mio dio o mio dio o mio dio vabbè vabbè no non possiamo non facciamo neanche commentare cioè le nostre azioni partono per noi c'è da un bel spi ma i nostri due tiri se li stai facendo sbiancare se quando il commento di quello lì guarda il commento ora ora vado col missile ora vado col ok ok c'è di noi ma cosa è un po no volevo utilizzare il missile va bene aspetta ok non importa ho perso la parla e prendila a di là la loro forte di là o mio dio vicino perché ha lanciato in avanti perfetto fermatelo pure se un grande spi passati sono per feste c'è spi c'è spi c'è spi c'è spi a giro noob blu mi spiace un sorri ok mi prendo la macchina da clown ora ok andiamo a spi a questa volta c'è questa volta un passo la bottiglia maia attento a spi come mai un lancio perché non lanci il coso no coli lancia la cavolo di macchina come facono lì come fa ma come ha fatto ma quanto veloce ma come ha fatto non mi fa non mi ha fatto lanciare la pottuta macchina che non riparo riparte le fatte basso utilizzare oggetti la basta si fa di mani e basta come ha fatto andare così veloce questo qua va bene non importa o mio dio quella macchina clown la macchina clown e lui la sa usare al contrario mio no e invece un guarda cazzione lancia un gioco attenzione vabbè 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 questa cosa è un po più gente che cerca di salvare inutili mentre aveva porta con i missili acquittato l'abbiamo fatto quelli squintare mi è entrato un altro adesso c'è il c è acquittato hai visto l'abbiamo fatto quintare quello adesso mi prendi la palla io la difendo vabbè 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 basta basta non è non è corretto capisce è immorale questa cosa troppo senti come ci fischiano dalla distanza è spesa il meglio sei il meglio cosa come si attenziano qualcosa non importa molto bene ma possiamo fare comunque io segno la vittoria al punto la vittoria questo vediamo 7 a 1 arati arati sette euro altro che brasilia al pati esatto altro che il brasile germania cosa cosa facciamo che abbiamo mappa mappa facciamo oddio hanno giocato per blood ball uniamo c'è la buona corra è arrivato trama adesso vi faccio vedere io come si gioca sì ma sei nell'altra squadra 4 contro 4 sei contento ok dannazione o oddio oia mi ha arato sto qua restatelo oddio mi ha arato oddio ma chi è che lancia segna 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 Dannazione che andiamo è un grande guniac e guniac 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 è un pro ci sono anche anche le spike di legno per terra guniac è un pro ok ok andiamo corri 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 sotto la pioggia una vera finale un vero final match ok che dolore prendetelo nooo sta facendo nulla beh è ovvio Dov'è la palla aia basta tirarmi delle pacche sul culo segna segna sei tu sei tu Xypak xypak chef C'è la squadra di newbie c'è uno che ha vestito a palombaro ti pare che si venga a palombaro a giocare a rex Ma siete in 5 adesso guarda è rientrato quello a Oddio quello che stavo in pagina prima Il pingoso no è rientrato il pingoso E' rientrato il pingoso Sporterà le spalle Oddio è rientrato il pingoso il laggerman E' il laggerman E' il laggerman Ok amico Tiaro Chi sei che tiaro Tiaro Sii Oh dammit Chi era Oh Oh Non lo so ma ogni tanto tipo ci sono delle sfide di due Oddio Tu devi morire ok è morto Fermate No 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 fate attenzione a quello più Segnate Vabbè c'è il nostro rosso c'è c'è il tizio rosso che si è tolto da avanti Vabbè 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 Ma sei il loro leader Davvero Si Solo se mi chiamano il ping Oh ok No L'hanno presa No la bottiglia Vai 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 No non ci credo Non ci credo Non ci credo Il vostro è un reattore sulla schiena È un pro Lui citta Lui citta Lui citta Guarda gliela passata poi gliela passata Ok andiamo 3 2 1 via Ma comunque hai notato hai notato che c'è il tizio con il coso da palombare Poi l'altro con i reattori sulla schiena Si avete dei pro in squadra No 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 ma non è che Non è che tipo all'interno del server ci sono Ah Ah Espi 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 non ci credo non ci credo ok comunque ho vinto io l'uno contro uno è questo che conta è questo che conta va bene Espy ok intanto noi vinciamo la partita tempo è già finito il tempo andiamo Espy ok 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 era il countdown 5 su 7 dai ragazzi ancora due punti non ce la faremo ma oh mio di nessuno che viene a prendere la palla oh sì certissimo chi è sto qua Espy no lancia la palla lancia l'amico attenzione ok ok perché va sempre avete tutti i rimpalli maledetti avete tutti i maledetti rimpalli questo si chiama essere pro cosa fai un passo si è suicidato è un pazzo si è suicidato attenzione troppo va troppo va troppo va no 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 ma cosa è successo maia no lanciate bidoni ma guarda che è passato sto qua guarda che è passato guarda che è passato fermatelo ma fermatelo fermatelo ma guarda non puoi fermarlo quanto è veloce non puoi fermarlo non puoi fermarlo non puoi fermarlo so ed espy segna wow espy un cittone espy un cittone espy cittone guarda che ti fa i cittoni guarda 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 che ti fa città dove sei dove sei vado vado nelle spine dove sei espy oh mio dio non lo so non lo so come fa come può essere si chiama città così veloce si chiama città no la nazione basta con sta tensione 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 prendetelo tensione tensione oh non ci credo non ci credo ancora c'è pure l'ebete col simbolo del divieto in faccia l'hai visto te lo sei visto si l'ho visto è match point ok c'è il match point signori e lo segnerà lo segnerà lo zio lo segnerà il capitano un uomo che dà tutto per la sua squadra un uomo che ci sacrifica un uomo che viene sbalanzato qua di là un uomo che dà tutto per i suoi compagni è lo zio Tramon che adesso prometterà di segnare il punto della vittoria o quanto meno di contribuire sono arrivato attenzione 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 che è stato questo qua che cosa è quella cosa cosa è quella lo zio lo zio l'aveva promesso lo zio l'aveva promesso la mette lo zio l'aveva promesso lo zio l'aveva promesso Punto decisivo Espi complimenti bisogna dire che la tua squadra non era all'altezza Non erano capace di far nulla cadevano nelle sfide da soli direi che possiamo concludere questo questo video Super ignorante ok quindi dai due skill pro gamer trombone di Espi direi che è davvero tutto vero Espi Alla prossima Andiamo appuntamento Cos'altro qualche altro episodio assurdo come raccomando fatto un salto anche sul canale di Espi per vedere le sue imprese e le nostre imprese assieme Iscrivetevi mettete mi piace dal suo canale e oltre che se volete stare anche sul mio per seguire le altre cop E niente le gamer buone strombone per tutto ci vedo alla prossima ciao Bye bye